Sette movimenti in entrata e ben dieci in uscita. Il bilancio del Bari nella sessione di calciomercato appena conclusa. Ben quattro le operazioni alla fotofinish, concluse dal direttore sportivo Ciro Polito, con il difensore Matino, l'esterno Molina e centrocampisti offensivi Morachioli e Benali, ultimi rinforzi messi a disposizione di mister Mignani. L'affare Portanova invece è naufragato definitivamente nella giornata di ieri per l'allevata di scudi della piazza barese. A pesare sul passaggio in Biancorosso del giovane centrocampista Scuola Juventus è stata la condanna in primo grado a sei anni per stupro. Saltato anche il possibile vice Maiello, Companada, Mastinu e gli altri candidati sfumati nelle ultime concitate ore di mercato. Il Bari tuttavia esce da quest'ultima sessione con qualche certezza in più. Soprattutto il DS Polito è riuscito a regalare a Mignani una rosa più ampia, in particolare a centrocampo, dove dopo il presito di Enrico e l'addio di Scavone, l'allenatore Biancorosso può raccontare su qualche soluzione in più. Benali e Molina sono invece i colpi di maggior peso, giocatori di esperienza e qualità che conoscono bene la serie cadetta e che hanno un passato non troppo lontano anche in Serie A. In attacco invece nessun colpo a sorpresa, ma un cambio funzionale tra Salcedo e Esposito. Un mercato complicato il commento dopo il gong finale del DS Biancorosso Polito. Sono stanco, ha proseguito, ma soddisfatto. Ora concentriamoci sul campionato, a costruire questo finale. Spero la gente ci stia vicino come ha sempre fatto e per questo non possiamo che ringraziare. Facciamo tanti sacrifici e spero vengano apprezzati. Niente è precluso, conclude Polito, pronti a qualsiasi obiettivo che ci troveremo davanti.